Buonasera dalla redazione di Roma Daily News e bentrovati all'appuntamento con l'informazione della capitale. Partiamo dalla politica. Come è stato fatto il patto per Milano? Non vedo perché il governo non possa sottoscrivere un patto per Roma utilizzando proprio quelle economie che derivano dalla mancata candidatura ai giochi olimpici. Erano fondi che il governo avrebbe stanziato in caso di candidatura, immagino. Si è interessato allo Stato della capitale che voglia continuare a finanziare anche in caso di mancata accettazione della candidatura. Queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi in Commissione Sport al Senato. Passiamo alla cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 51enne originario di Vicenza e già noto alle forze dell'ordine trovato in possesso di centinaia di dosi di cocaina nascosta all'interno della sua otto vettura su cui aveva applicato una targa prova contraffatta. Il 51enne è stato quindi condotto in caserma in attesa del rito direttissimo nel corso del quale dovrà rispondere a detenzione ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata. Passiamo al teatro. A partire dal 6 ottobre alle ore 21 verso il teatro degli Adaci, sito in via Giuseppe De Santis 29, il direttore artistico Flavio De Paola vestirà i panni di Guglielmo e Azzo nel nome della Rosa, ovvero sulla soglia del labirinto per la regia di Pablo Maximo Taddei. Il nome della Rosa ha ottenuto un vasto successo di critiche di pubblico, venendo oltre 50 milioni di copie in 30 anni e venendo tradotto in oltre 40 lingue. È un'opera considerata un incrocio di generi tra lo storico, il narrativo ed il filosofico. Era questa l'ultima notizia per oggi da Massimiliano Guerra e da tutta la redazione di Roma e degli News. L'augurio di una buona serata.